E' stato questo tappin in attacco di Michael Hicks su tiro sbagliato di un compagno al termine del tempo supplementare a impedire alla Marco Polo Forlì di mettere a segno un clamoroso successo esterno sul campo della quotatissima Sigma Barcellona, vittoriosa per un pelo 92-90. Il confronto ha infatti visto una prova tutta generosità e sostanza da parte del quintetto romagnolo capace di rintuzzare tutti i tentativi di fuga dei padroni di casa, massimo vantaggio di Barcellona più 15, 56-41, mantenendosi a stretto contatto per poi mettere il naso avanti 70-71 a 24 secondi dal termine. Conclusi i tempi regolamentari sul 79 pari, anche il supplementare è rimasto in equilibrio sino alla fine quando la manata di Hicks ha deciso tutto. A dir poco clamorosa la prova dei due play forlivesi, al centro di forti critiche in odore di taglio almeno per uno dei due, Piazza e Forai hanno sciorinato in terra siciliana un vero partitone, 42 punti in due con canestri pesantissimi nei momenti topici ed una regia finalmente efficace e lucida, tale da innescare le conclusioni anche dei compagni. La gran parte del quasi colpaccio dunque va attribuita a loro, ben coadiuvati dal duo usa Gordon 20 punti e 12 rimbalzi e Widman 14 punti ma uscito prematuramente per falli. In sintesi finale i due punti sono andati a Barcellona ma Forlì non è tornato a casa mani vuote ma con la netta percezione di avere un potenziale umano e tecnico che vale molto di più della sua attuale classifica.